29 giugno 2021, Milano-Cadorna, sono ritornato a viaggiare di nuovo in questa stazione, dopo essere stati per una settimana alla stazione centrale, qui benissimo, benissimo al viaggio, vedo la bacheca, asso, ecco il treno qui indicativo, è un bel treno lunghissimo, non c'è gente, è una zona bella tranquilla. Sono a Milano-Cadorna, comodo per raggiungere la mia località di Baggio col bus 58, comodissimo, oggi mi dirigo verso la Brianza, ci sono tantissimi posti da scoprire in Brianza, guardare la stazione dove io sono tuttora, non è male, molto comoda, c'è il service da mangiare in diversi punti di storo, all'esterno della stazione, già preso rifornimento per il mio cibo quotidiano, ed ecco il girovago, è qui alla stazione indicativa di Milano-Cadorna, dove intraprendo il mio viaggio verso Inverigo, bellissimo, Inverigo c'è la passeggiata dei cipressi, tenuta pomelasca, pure bello, vi proseguendo vado infine anche col collegamento di Merone alla stazione di Brenna alzate del Novecento, dove ispira il mio senso poetico e pittorico, la stazione di Brenna alzate. Posso anche proseguire, come si vede qui dal treno, e raggiungere il capolinea della stazione Canzoasso, dove l'ultima fermata stop, riparto poi di nuovo per vedere il bel paese di Canzoasso, dove io mi trovo, dove io vado tuttora e qui rifletto la mia vita del passato, dove ebbi una casa in affitto. Canzoasso, Aldo, un saluto da tutti gli ottobisti. Grazie.